Siamo con Giulia Bilamuri e Sveva Tonella. Allora Giulia, non avete giocato questa settimana per via del riposo, su cosa vi siete concentrate maggiormente? Allora, abbiamo lavorato tanto fisicamente e in più ci siamo allenate tanto e abbiamo messo a posto alcuni fondamentali che le ultime partite non erano andate in granché bene. Abbiamo lavorato tanto, direi, su battuta ricensione, quindi tutto è anche un buon lavoro. Sveva, prossima sfida contro Pinerolo, terza della classe, una sfida difficile? Sì, certo, ne veniamo da due partite comunque che ci hanno dato difficoltà, però comunque cerchiamo di fare del nostro meglio, sicuramente abbiamo messo a posto molte cose e speriamo di fare del nostro meglio.